Quali sono le differenze tra un venditore e un consulente di viaggi Evolution Travel? Essere un consulente di viaggio online non significa essere un venditore, sia chiaro. Il compito di un venditore è quello di creare un bisogno a una persona vendendole un prodotto o un servizio. Qui è diverso. È il cliente che ti suona il campanello trovandoti online perché ha già un'esigenza e richiede il tuo aiuto e le tue competenze. In realtà il bravo consulente è colui che fa le giuste domande al cliente per capire esattamente cosa si aspetta dall'esperienza di viaggio che vuole vivere, qual è il suo sistema decisionale, il budget, esigenze specifiche, eccetera, eccetera. Non a caso nel gergo della comunicazione si dice chi domanda comanda e le giuste domande da fare al cliente non a caso ti vengono insegnate da Evolution Travel durante il collaudato percorso formativo. Un consulente mette a disposizione del cliente il valore del proprio sapere mentre un venditore come obiettivo a vendere un prodotto o un servizio con tecniche di persuasione. Un consulente è orientato al cliente mentre un venditore è orientato a un prodotto o a un servizio che vuole vendere. È una bella differenza. Se trasformare la tua passione per i viaggi in un'attività è qualcosa che ti interessa fai sul link invio e scarica la guida gratuita per capire come diventare consulente di viaggi online. Troverai risposta a tutte le tue domande.